Grazie per essere qui, questa per noi è una serata speciale, speciale perché si celebra la femminilità, la femminilità attraverso la danza, attraverso la poesia, che si risolve le cose da sola, è indipendente, non ha bisogno di nessuno, è la se stessa, e qui Diana ci sono donne che sono qui e che però rivendicano una sorta di indipendenza, le donne che vogliono essere libere, senza pregiudizi, senza etichette, le danzatrici di mia ora. Grazie. 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 Fiera, lontana dal dolore, dall'imperfezione e anche dal mio corpo, di Tedea, dimenticando donna. Grazie a tutti. 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 contro le sfide e la vita dell'uomo. Lascio solo l'esergenza. La vita dell'esergenza. 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 e la vita dell'esergenza. La vita dell'esergenza. Sono donna, mi hai visto a ballare stasera. Il mio corpo è tondo o snello o giovane o in là con gli anni. Sempre donna sono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti per aver assistito con tanto entusiasmo al nostro spettacolo. Vorrei chiamare le nostre lettrici sul palco. Anna, la presentatrice che ha scritto l'introduzione dello spettacolo. Grazie a tutti. Grazie al gruppo di lettura voce alle pagine. Grazie a tutti. 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 Grazie anche ai ragazzi del service che sono stati veramente bravi. grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon proseguimento di serata e buon proseguimento di serata e buonanotte. Grazie a tutti.